Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi, terzo video di questa domenica 25 giugno che volge al termine, quasi ora di cena, ci diamo la cena con questo video, ultimo video della giornata, oggi molto compressi visto che nella mattinata non ho potuto registrare video, partiamo con questa nuova chiacchierata, non prima di aver fatto le cose per ordine, a cominciare dalla nostra intro. Ben trovati, ben trovati di nuovo ragazzi a tutti voi, cari amici, faccio subito una premessa importante, già lo so come andrà a finire sto video perché è un argomento che mi sta molto a cuore, userò tante varolacce, quindi se ci sono bambini che vedono questo video, ci sono persone che non gradiscono un linguaggio un po' più marcato da parte del sottoscritto, vi invito a non andare avanti nella visione di questo video. Io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio, vi ricordo che potete leggere tutte le informazioni del nostro canale qui sotto e poi le locandine che vedete appunto in sua rampressione mentre io parlo, vi ricordano tutto il resto. Oggi chiudo la giornata con un video di riflessione, un video di riflessione che è uno dei classici video che mi può fare incazzare, scusate il termine. Perché dico questo? Perché nel corso di questa settimana, visto che non c'è una minchia di cui parlare, si è fantasticato su determinate cose inerenti, la Lazio, a cominciare dal fatto che ad esempio Sarri ha interrotto le sue vacanze per rientrare a Roma e parlare con Lotito. questo è vero, ma vi dico il perché, adesso andiamo avanti. Una volta presa questa notizia, improvvisamente, senza sapere una minchia, qualche articolista, qualche giornalista vero, qualche giornalista finto, ha voluto accendere la miccia giocando su un terreno come quello dell'ambiente laziale che è un terreno abbastanza fertile, abbastanza fertile, no? Soprattutto noi lettori laziali ci piace leggere le cose brutte della Lazio, è provato, l'ho sempre detto, a noi piace leggere più le cose brutte che quelle belle, anche in quelle belle troviamo le cose negative. Da questa cosa me ne accorgo anche nei commenti sotto i miei video, vedo dei commenti che mi lasciano senza parole, ma vabbè, ognuno è libero di dire quello che vuole. Allora, fatta questa premessa, qualcuno si sarà, ipotizzo io, si è seduto intorno al tavolo, ha detto, ok, la notizia certa è che Sarri torna a Roma perché ha interrotto le ferie. Aggiungo io, senza avere notizie, senza avere fonti, perché Sarri è rientrato a Roma prima. Posso immaginare perché l'erode il gingero, perché l'otito non sta comprando nessuno. Ma sì, dai, mettiamo, fammi scrivere sta notizia, fammi copro dietro un bel condizionale, vado a scrivere che potrebbe essere che Sarri è incazzato, però tu scorretto nel titolo scrivi che Sarri è incazzato. Non usi il condizionale anche nel titolo, dico te per di 6-7 persone che si sono divertite a scrivere questi articoli, capito? E tanti di questi che scrivono questi articoli, ve lo dico per certo, sono testati, tifosi della Lazio, chiaro? Pur descrive qualche cosa. Non è che nel titolo scrivono Sarri potrebbe essere incazzato, perché sanno che il lettore, se legge Sarri potrebbe essere incazzato, potrebbe non cliccarti e venire a leggere il tuo articolo. Se invece tu nel titolo scrivi che Sarri è incazzato, il lettore, il tifoso raziale vuole approfondire, clicca, clicca, soldi, monetizzazione, pubblicità, clicca e poi tu all'interno dell'articolo, se hai fatto con intelligenza, perché non ho letto alcuni, sono fatti proprio de merda, scusate il termine, l'incondizionale lo metterò all'inizio della lettura, nemmeno so furbi, perché tu semmai tu il tuo niente lo dici alla fine, nell'ultime due righe d'articolo coprendoti e parandoti il culo con un bel condizionale, capito? E questo te lo dice uno che è un coglione qualunque. Scusate ragazzi, ma lo sapete che su questo argomento perdo proprio la pazienza? Perché si gioca col tifoso laziale, si gioca con la serenità dell'ambiente laziale e a me non mi dovete toccare l'ambiente laziale, particolarmente i tifosi, non li dovete prendere per il culo. Ecco, è questo il discorso. Allora qualcuno si sarà inventato questa cosa e quindi ha cominciato a circolare la voce secondo la quale Sarri è incazzato e sta tornando prima a Roma, poi qualcuno si è pure portato oltre, qualcuno si è pure portato oltre dicendo che Sarri c'è il rischio che dia le dimissioni, quindi da una cosa che vi sto per dire adesso, guardate a cosa si è arrivati, vi spiego la situazione per far capire, per capire tutti insieme, per confrontarci su questa cosa, su come funziona la comunicazione nell'ambiente Lazio e su come noi coglioni tifosi laziali, per fortuna non tutti, ci facciamo prendere in giro. Ok? Vi dico una cosa, il rientro di Sarri a Roma era già programmato, cari miei fenomenoni della comunicazione, il rientro di Sarri a Roma era già programmato, si era deciso il famoso giovedì di tre settimane fa che ci si sarebbe visti tra il 26 e il 27 giugno per fare il punto sulle operazioni di mercato che si stavano intavolando e eventualmente per lavorare sul piano B, piano C, piano D, qualora il piano A non era praticabile, avete capito cari i fenomeni della comunicazione? Questo c'era in programma, Sarri era già deciso, era già tutto concordato che dovesse rivedersi personalmente o sentirsi in una col collo dito, perché dovete sempre condire e metterci dentro che Sarri è requieto visto che interrompe le ferie e torna a Roma? Perché vi siete spinti anche oltre qualcuno dicendo che Sarri c'è il rischio che dia le dimissioni e neanche parte per il ritiro d'Auronzo di Cadore? Ma che, perché vi divertite a mettere tutto sto fango? Perché? Perché? Ma io dico una cosa, no? Dico una cosa, a chi fa sto lavoro, a chi lo fa di professione, ma perché non avete scelto la Roma? Perché non avete scelto la Roma, a Roma è pieno di tifosi della Roma, sono i due terzi, sono tifosi della Roma, ma mette e spostatevi a parlare di Roma, qualunque cosa scrivete loro a bocca non gli piace, tanto da quella parte la polemica non esiste, se tende solo a scrivere e ingigantire le cose in positivo, andate a parlare di Roma, scrivete di Roma, non venite a togliere la calma e la serenità dall'ambiente naziale, perché questo è un ambiente dove ci manca, ci vuole davvero poco per mandarlo su dei giri, perché fa soffrire il tifoso naziale con delle cazzate, con delle cazzate, vere e proprie, siete arrivati a scrivere che Sarri è anche in grado di pensare e di dare le dimissioni, ma che cazzo state a dire? Voi così cari miei state guadagnando sulle povere persone come noi, come i poveri noi tifosi naziali, e la cosa che mi da rabbia è che questo lo fanno anche certificati tifosi naziali, perché alcuni che scrivono questi articoli li conosco pure personalmente, io non lo capisco perché, io capisco che l'ambiente naziale è predisposto più per le cose negative che per quelle positive, ok, ma tutto c'ha limite, oh, volete fare corretta informazione? Imparate va a mettere, visto che non parlate di un cazzo a giugno, visto che non parlate di niente, imparate va a mettere i condizionali anche nei titoli, perché il tifoso intelligente non invece clicca sull'articolo, imparate per essere onesti e corretti verso il tifoso naziale, perché se voi mettete un condizionale nel titolo, allora il tifoso naziale che va a cliccare non lo state ingannando, perché nel titolo gli avete detto già la verità, questo è l'ambiente Lazio, un appuntamento concordato già da tre settimane tra Sarri e Lotito, tra l'altro vi dico pure di più, non è probabile domani l'incontro ma dopo domani, quando parlo di incontro parlo anche di un eventuale contatto telefonico, ok, questo intendo dire, quindi probabilmente è più domani che dopo domani, più dopo domani che domani l'incontro tra Lotito e Sarri, ma era concordato, era pattuito e Giacomino che è un mio amico è un fregnone di questi che ci ha cascato, ecco ci stiamo giocando, posso parlare di Giacomo perché è un amico fraterno lo posso fare, ci stiamo giocando Sarri, ecco, poi prende, va via dalle dimissioni, sto leggendo di qua, di là, per favore tranquillizzami, dimmi di qua, ecco, Giacomino è il prototipo del tifoso naziale, ecco qua, ecco come si rischia di accendere la delusione del tifoso naziale in un mese come quello di giugno e ve lo ribadisco ancora una volta, cari amici miei, che dovrebbe essere il mese più bello di tutti, è il mese dei nomi, delle fantasie, dei giochi in cui finalmente il tifoso naziale può sognare, può sognare di avere nella propria squadra un giocatore che gli piace, è il momento della leggerezza e invece pure giugno con questo tipo di atteggiamenti, per fortuna non lo fanno tutti, purtroppo però mi permetto da lettore da tifoso di dire che la maggior parte lo fa sto giochetto, mi dispiace. Un'altra cosa della comunicazione Lazio, sentite qua, gira un nome, tra l'altro già ve lo dico che domani farò un video sui nomi accostati alla Lazio, come li leggo io, come li accosto io, faccio un video proprio su questo, stavo dicendo per farvi capire un altro discorso, sentite questa ragazzi eh, allora circola la voce su Ngonge, il giocatore del Verona, ne butto uno su, è un esempio eh, attenzione. Mercato Lazio, Ngonge, si inserisce prepotentemente la squadra X che vuole acquistarlo, ma Mercato Lazio di che? Ma Mercato Lazio di che? Ma di che? Ma di che? In questo, in questo tour bionde nomi che girano, no? Ma Mercato Lazio di che? Che se sovere quello che stiamo dicendo, tra i video di gente come me, quello che leggiamo alla Lazio come sempre vengono associati 100-200 giocatori, Mercato Lazio, Ngonge, si inserisce questa squadra e secondo voi, e qui concludo, il tifoso raziale come interpreta un articolo del genere? Eccola là, se famo soffia pure questo, perché siamo assenti, perché sta facendo il mercato lo dito, perché non abbiamo un DS, ecco questa è la comunicazione in casa Lazio, non in casa Lazio, questo a D, in ambiente Lazio, voi ditemi ragazzi se è normale, io chiedo scusa per le tante parolacce, scusate ma questo davvero è un argomento? è un argomento che mi sta sulle palle, ve lo dico proprio sinceramente, è un argomento che detesto, detesto. Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.